Musica Musica Signori vi informiamo che alla fine del livello ci saranno 10 minuti di pausa, grazie. Final day, the game, i giocatori attualmente sono in pausa e ci stiamo avvicinando alla zona calda dei premi, infatti per un prize pool di quasi 70.000 euro e una prima moneta di oltre 16.000 euro. Tra un caffè e una sigaretta i giocatori cercano di sciogliere la propria tensione, ma andiamole a sentire. Musica Ciao, sono Alessandro Della Grotta, detto Romantique di Bologna. Ciao, sono Giorgio Silvestrin e ho circa 220.000 euro in questo momento. Musica Alex Pesci, adesso ho appena perso un brutto piatto da 310.000 euro. Montanavella Simone, 355.000 euro. Alessandro Natalia, 270.000 euro. Ciao, sono Farfogli Emanuele, 280.000 euro. Un po' arrabbiato perché sono appena uscito. È molto più brava la regina di me a questo giochino. Ormai siamo giù. Una l'ho vinta, insomma, adesso basta, mi sa che si può più bleffare adesso. No, giocando tranquillo. Mi betto, io gli tribetto, tribetto, to, to. Ero molto bene, poi ho perso un ultimo colpo con un corto, avevo 420.000. No, appena vedo Asio K, metto tutto e basta. Tribetto, to, to. To, to, to. Sei sempre carina e sempre bene. Volentieri di vederti. No, non faccio la raccolta differenziata. To, to, to. Non faccio la raccolta differenziata. No, non faccio la raccolta differenziata.